Anche lo sci è molto bello e c'è molta velocità, c'è tanta velocità anche nello sci, però la moto ha un fascino tutto particolare perché fa rumore, è un mezzo meccanico, ci sali sopra, è quasi come se fossi un cavaliere dei tempi moderni, c'è un fascino tutto particolare dietro al motociclismo, magari perché è il mio sport.